Verrà inaugurata lunedì a Nuoro dal Presidente della Regione Francesco Pigliero la prima fase di formazione del programma Talent Up, concepito dalla Regione per creare una nuova generazione di imprenditori capaci di confrontarsi sui mercati internazionali. L'appuntamento è un programma nella sede del Consorzio Universitario Uninuoro. Sanno presenti il Direttore Generale dell'ASPAL Massimo Temussi, il Sindaco di Nuoro Andrea Suddu e il Commissario del Consorzio Universitario Nurese Fabrizio Mureddu. Sono 50 i partecipanti alla prima fase della formazione del programma che poi li porterà per altri tre mesi all'estero in uno dei primi 20 ecosistemi imprenditoriali innovativi a livello internazionale. La selezione da parte dell'ASPAL che coordina il progetto è terminata la scorsa settimana e ha visto la partecipazione di 150 concorrenti. La prima fase di formazione comincerà lunedì a Nuoro, donerà un mese e sarà gestita da un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Fondazione Giacomo Brodolini di Roma, dall'Università LUIS e dall'Istituto di Formazione di Cagliari. In questa fase, sottolinea una nota alla Regione, i partecipanti acquisiranno competenze di base in area marketing, contabilità, strategia d'impresa in un percorso di formazione in aula svolto interamente in lingua inglese. La fase successiva, il treatment, si svolgerà all'estero e al termine dell'intero percorso i partecipanti saranno pronti a rientrare in Sardegna e avviare la propria impresa grazie alle misure di Sardegna Ricerca e del Centro Regionale Programmazione. Questi individueranno per ciascuno il programma di incentivo più adatto in base allo stadio di sviluppo dell'idea imprenditoriale.